meravigliose creature che non siete altro non siete altro che meravigliose creature 11 novembre 2022 come non fare un piccolo video sulla numero un po particolare di quest'oggi in tanti dicono che sia un portale sì è un portale assolutamente un portale ma tutti i giorni tutti i giorni sono dei portali ogni momento è un portale certo che poi se stiamo dietro un po alla numerologia è come una mappa no è come il linguaggio dell'universo che ci dice determinate cose sia quando mettiamo l'occhio sull'orologio ed è sono le 11 11 le 22 22 le 17 17 le 16 e 16 sì assolutamente sono dei segnali che vanno interpretati e quando ci mettiamo in testa di interpretarli ci avviciniamo sempre di più a quel linguaggio che l'universo adotta per parlare con la nostra anima più profonda è logico che se noi stiamo in superficie continuamente e quest'anima profonda arrivederci non si riesce a trovare però sì 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 sono giorni anche particolari perché siamo entrati in un mese estremamente terreno estremamente terreno estremamente terra e la terra sappiamo che arriva per rimettere insieme le cose rimettere insieme le cose riequilibrare le cose è proprio il lavoro che siamo chiamati a fare in questa vita riequilibrare in yang riequilibrare la dualità osservare la dualità osservare anche la manifestazione dell'universo dell'energia vibratoria dell'universo attraverso la materia attraverso la materia e questo mese è un mese quadrato è un mese di materia anche oggi è un giorno quadrato è 11 11 2 più 2 uguale 4 va a formare proprio il gran quadrato che ci dà l'opportunità di vedere come lavorano i quattro elementi supportati sempre comunque dal quinto elemento dimentichiamoci che gli elementi sono cinque da tenere in considerazione c'è sempre un elemento che tiene tutto che sorregge tutto quanto e questa terra sorregge tutto sorregge tutto e su questa terra in questo periodo può avvenire qualsiasi cosa anche perché ci sono riappacificamenti come abbiamo visto perciò riequilibrio un riequilibrio anche abbiamo visto anche attraverso le elezioni di midi termine negli negli stati uniti con un equilibrio vabbè l'altra parte l'altra parte si dichiara sconfitta soltanto quando viene spazzata via dal vento no non ammetterà mai la sconfitta però insomma in qualche maniera c'è stato un equilibrio anche lì e niente questa energia si manifesta dentro tutti noi e dentro anche il nostro quotidiano nella nostra vita ci sta che arrivano momenti ed eventi che vanno a riequilibrare una certa situazione e quando si riequilibra una certa situazione non è sempre simpatica la cosa non è sempre simpatica la cosa assolutamente ci sono degli scossoni come ci sono stati scossoni questi giorni con il terremoto non soltanto in italia ma anche in altre parti del mondo terra terremoto e riequilibrio riequilibrio materia osservare la materia cercare anche in qualche maniera di entrare in contatto con essa senza odiarla senza odiarla tipico movimento interiore del del ricercatore spirituale basta questa materia la odio la materia fa parte della dualità e riuscire a comprenderla a riconoscerla e a vedere il significato sottile che sta dietro la materia è proprio 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 il lavoro che siamo chiamati a fare in questa splendida comunque vita io a voi vi do un caro abbraccio sono giorni molto intensi fra lavori all'aperto e lavori all'interno sono molto occupato sono molto felice per questo e vi ringrazio tutti anche perché li dirette con il corso del kid delle 9 stelle con la meditazione insieme a laura con yoga insomma sono dei momenti veramente particolari e ci sono dei grandi feedback che sono estremamente contento vi mando un caro abbraccio vi auguro di passare questo 11 11 nel migliore dei modi ancora quello che rimane la serata e la notte e ci rivediamo al prossimo video e come sempre forza amore coraggio e volontà grazie a tutti